Estra Concentria annuncia per il prossimo anno l'entrata in funzione a Cortona di una nuova centrale per produrre biometano che si aggiunge a quelle di Asciano di Siena, Arezzo e Mosciano Sant'Angelo di Teramo. Estra accedera alla decarbonizzazione delle reti di distribuzione del gas. Nel giugno 2024 Estra ha prodotto 2,4 milioni di metri cubi di biometano pari a 25 gigawattora di energia rinnovabile. Al via i lavori di metanizzazione a Santa Colomba nel comune senese di Monteriggioni. Centria, la società di Estra, poserà una nuova condotta di 3 chilometri per un investimento di circa 580 mila euro. Estra, partner di Siena Awards 2024 che quest'anno celebra il suo decennale con tanti eventi dedicati alla fotografia e 6 mostre diffuse fino al 24 novembre in tutta la città. Grazie per la visione! Grazie per la visione!